L'Isola dei Famosi Sono stati quattro i concorrenti immuni. Cosa è accaduto durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi? Dopo l'eliminazione di Luce Caponegro, è già tempo di nomination. Scopriamo cosa è successo. Isola dei Famosi. Terza puntata. Luce eliminata. Infortunio per Marina Suma. Isola dei Famosi. Terza puntata. Nel corso della terza puntata, in onda lunedì 15 aprile su Canale 5, sono stati quattro i concorrenti immuni. Si tratta di Alvina Verecondi Scortecci, Cadi Guai, Pietro Fanelli e Marina Suma, che ha subito un brutto infortunio in diretta proprio durante la prova per ottenere il benefit. Samuel Peron, è il leader della terza puntata dell'Isola dei Famosi. L'ex ballerino ha conquistato la collana grazie alla prova del fuoco. Durante la serata, infatti, Peron ha dovuto affrontare una sfida con Greta Zuccarello, appena rientrata dall'infermeria. Dopo averla battuta alla prova del fuoco, Peron ha conquistato il titolo. I naufraghi hanno quindi deciso quali concorrenti mandare al televoto nel corso della prossima puntata del programma, in onda giovedì 18 aprile sempre in prima serata su Canale 5. I concorrenti nominati sono, Daniele Radini Tedeschi, Arthur Dainese, Francesco Benigno e Peppe Di Napoli. A questi si aggiunge Joe Bastianich, nominato dal leader di puntata Samuel Peron.